È un momento di grande gioia per la regione Campania e per gli amministratori perché si registra una grande attenzione da parte del mondo verso la Campania. Noi abbiamo iniziato già da un po' di tempo a mettere in campo delle azioni anche di promozione della Campania e oggi possiamo dire che si notano, si registrano i primi risultati. È commovente vedere tanti operatori che oggi riescono a rappresentare al mondo, tenga presente che c'è la Russia, la Cina, la Germania, il Giappone. Insomma sono tantissimi i tour operator che sono qui oggi alla borsa perché interessati alla Campania. Con il Presidente De Luca abbiamo messo in campo un progetto diverso dal passato. Noi siamo convinti che il turismo è la prima grande risorsa della Campania e per far crescere la Campania nella sua interezza bisogna mettere in campo un'azione di grande integrazione territoriale. I grandi attrattori che sono collegati con le aree interne. La Campania è una terra meravigliosa, è una terra che è nelle condizioni di poter attrarre flussi turistici per l'intero anno. Io sono convinto che possiamo fare in modo che il problema della destagionalizzazione venga davvero affrontato.